Web & Newra applica intelligenza artificiale alle decisioni di investimento sui mercati finanziari. Il nostro sistema di intelligenza cognitive valuta l'andamento dei mercati e i singoli strumenti finanziari e combina insieme approcci quantitativi, quindi algoritmi decisionali di nostra produzione e sistemi esperti sempre di nostra produzione basati sull'analisi tecnica. Pondera, pesa e decide autonomamente se il titolo è da comprare o da vendere. La nostra offerta si rivolge al mondo delle istituzioni finanziarie, cioè ai broker online e alle reti di consulenza che vogliono arricchire i propri servizi e vogliono supportare i propri utenti o il proprio consulente finanziario e si rivolge anche al mondo dell'asset management volendo chiaramente supportare e ottimizzare la decisione del professionista. Nella nostra mission c'è chiaramente il desiderio di portare l'approccio della decisione di investimento ponderata, intelligente, anche al mondo degli investitori privati e dei traders. Quindi stiamo per lanciare un nostro nuovo servizio, braino.ai, dove offriamo strategie di trading multi-orizzonte per chiaramente l'operatività nel trading e portafogli per chi vuole allocare in maniera più performante i propri capitali sui mercati finanziari. Noi cerchiamo di portare innovazione nel campo degli investimenti sui mercati finanziari, sia sull'approccio che applichiamo e quindi l'intelligenza artificiale combinata con gli approcci quantitativi, sia chiaramente per quello che riguarda la possibilità di offrire tipologie di investimento altamente performante al pubblico degli investitori. Il FinTech District chiaramente ci offre l'ecosistema che ci permette di portare avanti la ricerca, chiaramente in un ambiente molto dinamico e innovativo e allo stesso tempo di avere un monitoraggio costante su tutto quello che è l'innovazione nel campo del quadro normativo legato al monto degli investimenti e del wealth management. La nostra proposizione è chiaramente per definizione internazionale, perché monitoriamo chiaramente i mercati finanziari mondiali, quindi ci rivolgiamo ad ogni tipologia di investitore ed in ogni localizzazione geografica. Attualmente abbiamo già dei rapporti con della clientela istituzionale, quindi delle banche, anche all'estero e quindi è nostra intenzione continuare il nostro sviluppo sui mercati internazionali. Abbiamo appena partecipato al Singularity University Summit che si è svolto pochi giorni fa qui a Milano e prevediamo chiaramente nei prossimi mesi di presentare la nostra offerta anche ad altri eventi mirati soprattutto al mondo dell'innovation e al mondo del FinTech nel campo degli investimenti finanziari. Grazie. 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 Grazie.